un maglioncino che vi faccio vedere parliamo già di una cosa un po' più pesante un maglioncino a collo alto un maglione direi a collo alto vedete di questo beige molto delicato io ho preso sempre taglia S allora questo devo dire ha una percentuale di lana maggiore quindi leggermente può dare un pochino fastidio quindi un pochino può pizzicare la qualità è super mi piace molto il colore mi piace molto queste righette molto delicate qui mi piace molto il collo insomma è un bel maglione è super caldo ed è adattissimo per l'inverno e niente in generale mi è piaciuto tanto questo maglione sono rimasta super positivamente sorpresa c'è anche in un altro colore ocra ovviamente vi lascio il link di tutti i capi sotto così potete andare a spulciare un po' sul sito a vedere un po' a vedere un po' a vedere un po' a vedere un po' Grazie a tutti.